workout 4 un'ambra da 13 minuti partirà con 4 stone over the bar and jump 10 wallboard 12 shoulder to the right 10 step over the box e 12 calorie alla bike la particolarità ad ogni round le stone aumenteranno di due ripetizioni per tutte le specifiche le scalature i pesi mi raccomando consultate le schede online nel workout numero 4 the torment of sisyphus in 13 minuti amrap l'atleta al 3 2 1 go dovrà recarsi dalla pedana al rig per effettuare 4 stone over the bar and jump al termine delle quali si porterà al target dei wall ball per eseguire 10 wall ball shots terminati i quali si riporterà in pedana per eseguire 12 shoulder to overhead 6 col braccio destro e 6 col braccio sinistro terminate le ripetizioni l'atleta porterà il dumbbell davanti al box per effettuare degli step box over con il dumbbell avendo cura di reggere il dumbbell nella parte frontale del corpo con entrambe le mani terminati gli step over andrà alla bike per effettuare 12 calorie alla bike e quindi recarsi al rig per effettuare le stone over the bar and jump aumentate di due ripetizioni